Ciao a tutti, io sono Cristina e ho 11 anni e lei è Aurora e la mia cugina Sono appassionata di pallone Adesso vi faremo vedere come giocheremo al pallone, guardate Aspettate Soprattutto quanto ci diverteremo Vero, aspettate che... Ah, io dove mi metto? Metti qua Qui, aspetta, vediamo se ci vedono Scusate un attimo Un attimo, eh Che ci vuole, vai Non ti affare Non ti affare, va bene, tira, vai Sempre così è lei Non sa giocare Davvero? Sì Beccati questo Ah sì, questo è la ventana Sono brava, eh Ah sì, eh Ah baby Ah baby Ah baby, yeah Sono bravissima Caccio? Va bene Però piano Piano, va bene Chiudiamo a fare qualche palleggio Dai Che intendi? Così Quello no, non me lo puoi dire ma palleggiare sì Eh sì, palleggiare lo so fare anche io, anche a fare il canestro Vero Vero Apposta incastrata nell'albero Aspettate un attimo Incastrata nell'albero Che ci vuole a tirarla giù? Ecco fatto Scusate Vai Giochiamo Palla volo, eh Schiaccia sette Schiaccia tre Sì, ok Uno È un disastro Vedi, com'è? Vedete com'è? Però noi diciamo così, però scherziamo, vero? Sì Ah bella, amico Mando, stai Siamo un po' più cucina Via Pronta? Tre, due Aspetta Aspettate un attimo Eh, mi devo riprendere pure io, eccetto Eh Vai Uno Scusate La palla è mia, migliora mia Ha fatto vedere il computer Scusate Vai Stai molto parlando Ah Schiaccia tre Vai È ridicola L'unica cosa che gli so fare almeno è ballare E questo manco lei sa fare Lei sa giocare a calcio Io so ballare perfettamente Ti vede, cucina Lo sa? No Piano Ha Beccati questo Beccati questo Beccati questo Wow Ha Ha Piano, per favore Ma fa cadere Tutte foglie No dai No Non le fa cadere Ha Bella Amica Vista Ha Bene Ora faremo vedere Un'altra cosa Wow Yeah È un disastro Non lo sa neanche prendere Ah sì Che cugino è Ragazzi Volete vedere una cosa? La palla Vai a prendere? No Non sono un cagnolino Dai 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 Bravo cagnolino Piano per favore Piano Per un attimo Allora che piedi per prenderla? Non so neanche prenderla Ragazzi Chi gioca a pallone? Deve venire qua Assolutamente Per dargli una lezione Allora facciamo una cosa Visto che questo video Andrò su Youtube Votate Au O Cri Cioè Un Au Cri Per chi gioca meglio a pallone O Cri Io ballo Io calcio Ascoltate Votate allora Au Cri Per chi gioca meglio a calcio E dopo Au Cri Per chi gioca meglio a ballone No 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 Cri Votate Da 1 a 10 Come gioca Cristina a pallone E anche io Ah e dopo votate a me Da 1 a 10 Quanto ballo in bene Invece lei Da 1 a 10 Quanto gioca bene a pallone Ok Ah nei commenti Mettetelo eh I commenti Fatelo subito Appena noi lo spediremo A Youtube Non essere stupida Youtube Youtube Domani abbiamo le salme Forza E beh Eh si eh No 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 ci divertiamo Ciao 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 Youtube Noi dobbiamo Abbiamo Domani Abbiamo le salme Ora non ci dobbiamo sconcentrare Aspettate Dai Facciamo qualche parola in inglese Aspettate Go to hell Vai a fare il culo Vai a fare il culo O vai a fa il culo E' uguale Che cambia No E' che ce va tu a fare il culo Allora Ascoltate Visto che adesso abbiamo giocato a pallone E avete visto come giochiamo tutte e due Adesso dovete vedere come balliamo tutte e due Inizio Aurora Tungere Mani avanti I mani indietro Mi chè cio Che ci che cio Mani avanti I mani indietro Mi chè stop E cheù E ho se vuoi ballare E ho se vuoi cantare E ho se vuoi ballare E ho se vuoi cantare Sì che sei E che stى Sì che stى Sì che stى Vai Ha finito ora io vi ballerò danza kuduro danza kuduro levati dai aspetta ascolta ricominciamo finito stop ora vi faremo vedere come balleremo un gruppo danza kuduro balleremo danza kuduro iniziamo vai quella lì che è saggio com'era scusa qual'era il ritornello no quello lì come era uno due come era ah prima faceva vabbè quello ho capito poi quello lì vabbè quello lo so vabbè quello lo so lo so lo so quello lo so ah così ok ragazzi siamo pronti scateniamoci vai via via da 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 Cora sopra, a mia volta, senza futuro, nella saura, è una infezza, ma ve l'ho capito, senza futuro, yeah, siamo bravissime! Oh, si vede proprio! Allora, ora che facciamo? Ora che facciamo? Sì, diamo, e tu ripassi! Aia! Lo so, mi hai fatto male! Ripa, fa, te, le, sa, me! No, almeno su Youtube, no! Eh, raffio lì! Aspetta, ragazzi, potete che è più divertente, ok? Ah, io mi chiamo Cristina, e lei si chiama Aurora, ok? Veramente mi chiamo Yuta Nagatomo, soprannominata però, eh! E a me mi chiamano Crosti, come Crostino! No, non ti chiamano Crosti! Non ti chiamano neanche! Non sei tanto divertente! Ah, lei mi chiamano Yuta Nagatomo, perché assomiglia a una cinese! Senza offesa, eh! Ah! E tu sembri un Crostino! Fatto proprio adesso per mangiare! Fatto, ora ci metto all'aria! E sto non pronta! No! Mi ci metto in sango, e ti mangi da sola! Meglio! Comunque! Vieni, da me scappa la palla! Comunque, vi salutiamo! Vieni qua, U! Cuginetta! Salutiamo il cuginetta! Ciao, io sono il cugino di Nagatomo! Ciao! 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 Peace, I love you! Peace, I love you!